ciao lupetti nuovo video relativo al giardino delle streghe oggi parliamo di una pianta super conosciuta super bella che è il girasole noi ne avevamo un paio in giardino ma non hanno fatto una bella fine non mi ricordo più però sono state mangiate dalla capra o se sono semplicemente morti non mi ricordo più però non ce l'avevamo non lo mai utilizzate da scopo magico scopo rituale anche perché appunto non ho avuto l'occasione di raccogliere perché vi parlo di un bel po di tempo fa quindi se voi avete informazioni sul girasole se avete già lavorato se voi lo sapete usare all'interno dei vostri rituali lasciate un commento qui sotto io vi lascio un enorme bacione vi lascio il video sul girasole e noi ci vediamo tra due settimane il girasole è un fiore annuale con un fusto che può anche raggiungere i 4 metri le foglie picciolate sono disposte nella parte bassa mentre il fiore è contornato da petali gialli o arancioni il girasole fu importato dalle americhe dove gli incas lo consideravano una rappresentazione del dio del sole secondo i greci il girasole invece sacro ad apollo in quanto il mito vuole che sia una ninfa innamorata del dio che passava le giornate a guardare il suo carro solare il pianeta collegato al girasole è il sole mentre il suo elemento è il fuoco è collegabile al segno zodiacale del leone nel linguaggio dei fiori indica devozione le proprietà mediche del girasole sono le seguenti la tintura di foglie e fiori è utile per combattere malattie respiratorie come bronchite e raffreddore l'infuso delle foglie fornisce al corpo numerose sostanze nutrienti masticarne i semi mantiene la pelle giovane in campo esoterico è utile nei seguenti casi i petali essiccati possono essere bruciati come incenso per portare coraggio può essere aggiunto ai rituali volti a fortificare l'amicizia i semi di girasole possono essere uniti ad altre erbe per la fertilità all'interno di un sacchetto verde masticare semi di girasole prima di una seduta aiuta a mantenere la concentrazione i primi mi con la